Stamane un amico mi ha segnalato una bellissima poesia di un poeta brasiliano. La volta scorsa ho letto una poesia di Ketty. Stavolta una poesia di Mario Raul de Moraes Andrade, un poeta brasiliano, romanziere, saggista, musicologo, per la rubrica Reading che ti passa, potrebbe essere un titolo, e lo faccio volentieri anche per alcuni amici ipovedenti che mi hanno detto se la leggi ci fa piacere, spero di fargli cosa gradita. La mia anima a fretta. Ho contato i miei anni e ho scoperto che ho meno tempo per vivere da qui in poi rispetto a quelli che ho vissuto fino ad ora. Mi sento come quel bambino che ha vinto un pacchetto di dolci. I primi li ha mangiati con piacere, ma quando ha compreso che ne erano rimasti pochi ha cominciato a gustarli intensamente. Non ho più tempo per riunioni interminabili dove vengono discussi statuti, regole, procedure, regolamenti interni, sapendo che nulla sarà raggiunto. Non ho più tempo per sostenere persone assurde che nonostante la loro età cronologica non sono cresciute. Il mio tempo è troppo breve. Voglio l'essenza, la mia anima a fretta. Non saranno più molti dolci nel pacchetto. Voglio vivere accanto a persone umane, molto umane, che sappiano ridere dei propri errori e che non siano gonfiate dai propri trionfi, che si assumano le proprie responsabilità. Così si difende la dignità umana e si va verso la verità e l'onestà. Voglio circondarmi di persone che sanno come toccare i cuori, di persone a cui i duri colpi della vita hanno insegnato a crescere con tocchi soavi dell'anima. Sì, sono di fretta. Ho fretta di vivere con l'intensità che solo la maturità sa dare. Non intendo sprecare nessuno dei dolci rimasti. Sono sicuro che saranno squisiti, molto più di quelli mangiati finora. Il mio obiettivo è quello di raggiungere la fine soddisfatto, in pace con i miei cari e la mia coscienza. Abbiamo due vite e la seconda inizia quando ti rendi conto che ne hai solo una. a